Proseguiamo nel nostro cammino del catechismo con tematiche apparentemente molto difficili ma come al solito alla luce di Dio, alla luce di Cristo, alla luce della Chiesa, tutto diventa semplice, tutto è chiarito, è illuminato dalla luce del Vangelo e dalla luce poi della ragione umana che come ho sempre detto se rischiarata dalla fede è sicuramente capace di riconoscere la verità. Andiamo a parlare della libertà dell'uomo, ancora una volta una tematica che è stata insozzata, deturpata da tanti eretici tra cui il primo fra tutti che come sapete è Lutero, il quale come andremo a vedere ha appunto esposto una teoria eretica che naturalmente come ho detto già anche in altri video non mi disporrebbe personalmente se io fossi ateo a diventare cristiano. L'idea cioè del fatto che l'uomo non possegga il libro arbitrio, secondo l'eresia luterana, è qualcosa veramente di assurdo, di deturpante della natura umana, prima ancora che del credente e di un uomo in sé. Il fatto di credere che l'uomo sia semplicemente una marionetta nelle mani di Satana, come crede Lutero, quindi incapace di fare una sola buona azione, sicuramente non è un'immagine positiva dell'uomo, è un'immagine che certamente non può far pretendere di associare Lutero a qualunque altro umanista. Io sorrido sempre quando si sente parlare di Lutero come umanista perché da quel che io ne so, per le mie poche conoscenze, gli umanisti sono stati i colori quali hanno cercato di riesaltare la figura umana anche fino all'eccesso. Lutero invece ci dice, dice appunto nelle sue follie che l'uomo sarebbe schiavo di Satana, quindi ha scritto proprio un testo di servo arbitrio che andava a rispondere al testo di Erasmo da Rotterdam, anche lui il riformatore però su passi e su idee molto diverse da Lutero. Andiamo a leggere invece che cosa è la dottrina cattolica circa la libertà dell'uomo. L'uomo è libero? Ci siamo chiesti, ci chiediamo in questo catechismo. Sì, l'uomo possiede il libero arbitrio. Cioè, che cos'è il libero arbitrio? La facoltà di poter scegliere liberamente il bene o il male senza alcuna o coercizione deterministica che ci porterebbe ad essere nelle marionette nelle mani di Satana o, peggio ancora, di Dio. Dio non vuole che l'uomo sia una sua marionetta. Se l'uomo fosse, come alcuni sperano, una marionetta nelle mani di Dio, dice perché Dio non ci ha fatti tutti buoni? Perché Dio non ci costringe al bene? Se Dio fosse così, Dio, permettetemi, non ci amerebbe. Dio non ci amerebbe, Dio vuole la nostra libertà. Naturalmente ci ha dato la facoltà, la capacità di poter scegliere tra il bene e il male, ce l'ha data per il bene. Non è che ce l'ha data per compiere un atto maligno, per compiere un peccato, per andare verso la nostra condanna. Siamo noi che liberamente ci condanniamo, negando, opponendoci, come fecero i progenitori, alla volontà divina, che è naturalmente per il nostro bene. Esattamente, come ho detto tante volte, come dei genitori che dicono, che invitano, che educano i figli a ciò che è il bene, ma che però non possono pretendere, naturalmente, perché altrimenti non li amerebbero più, di costringere i figli in catene. Quindi non farli uscire, per esempio, di casa, perché fuori ci sono tanti pericoli, perché altrimenti tu commetti qualcosa che non va bene. La stessa cosa fa Dio con noi. Egli è morto addirittura sulla croce per indicarci la via e per meritarci anche la grazia, per darci la grazia che poi ci permette di essere, appunto, simili a lui, di incamminarci nel cammino di conversione. Ma Dio ci lascia il libero arbitrio. Questo libero arbitrio, che naturalmente non significa, come crede qualche ateo o qualche fesso, come alcuni intellettuali italiani, non vado a fare nome e cognome che sia la facoltà di poter fare quello che si vuole, non è questo il libero arbitrio. Il libero arbitrio è una capacità, non è un permesso, è una capacità che l'uomo ha, che mantiene, nonostante il peccato originale, di essere in grado di discernere, se vuole, il bene dal male con l'ausilio della grazia divina. E allora perché uno dice l'uomo è peccatore? Perché questo libero arbitrio sicuramente si affievolisce, si è affievolito, attraverso il peccato originale. È entrata, come abbiamo spiegato tante volte, una macchia nell'anima dell'uomo, e poi dai progenitori è per generazione a tutto il genere umano. Questa macchia però non impedisce all'uomo ancora, se si rivolge con l'aiuto della grazia a Dio, di tornare alla conversione, di tornare vicino a quello stato primordiale che era quello di Adamo e Eva prima che liberamente commettessero il peccato originale. Dunque abbiamo detto che non c'è una coercizione deterministica al male, come invece credeva Lutero, il quale infatti anche circa il battesimo aveva delle opinioni un po' contrastanti da momento a momento della sua vita. Perché? Perché il battesimo è una vera liberazione dalla forza di Satana, ma lui sosteneva che di fatto l'uomo non potesse liberarsi. Quindi capite che a questo punto si creava una sorta di contraddizione che infatti non riesce a superare. Alcuni eretici, infatti dico, tra cui il più noto è Lutero, non dico Martin Lutero perché mi fa impressione già il nome in italiano, Lutero, negarono la libertà umana, sostenendo che l'uomo sia comunque servo del demonio, incapaci di compiere alcun atto secondo la volontà di Dio. La Chiesa di Cristo invece insegna che il libero arbitrio è stato affievolito dal peccato originale, ma che con l'aiuto della grazia di Dio l'uomo è davvero in grado di convertirsi accettando l'aiuto di Dio a compiere le opere secondo la sua volontà. L'uomo può, se vuole, raggiungere la santità, ebbene sì la santità, la vera conversione non è una santità finta, è una santità che porta davvero ad un cambiamento di vita, attraverso la grazia di Dio. Dunque false e da confutare, da condannare le eresie ancora esistenti e purtroppo molto vive all'interno della Chiesa, non solo tra le sette eretiche, ma anche nella Chiesa di Cristo, secondo cui l'uomo sia appunto naturalmente, quasi ontologicamente, incapace di fare il bene. E qui c'è proprio l'influsso chiaramente di Lutero, il quale sosteneva appunto che fosse impossibile. Per esempio leggevo recentemente un passo del grande Catechismo di Lutero, Catechismo si fa per dire, dove lui se la prende contro l'obbligo del celibato, di cui abbiamo parlato anche recentemente per i monaci, per i consacrati in genere, monaci, frati e sacerdoti, perché dice bisogna che tutti si sposino perché altrimenti finiranno sicuramente nel peccato. Questo credere che l'uomo debba sicuramente compiere peccati, quasi che fosse una cosa deterministica, è propria dell'eresia luterana. Invece Dio ci dice che nessuno ha il permesso di peccare e che se noi vogliamo possiamo non peccare. Però Lutero, capendo erroneamente San Paolo, facendosi influenzare un po' troppo da questo aspetto della teologia paolina, ma non riconducendosi invece alla teologia, diciamo, successiva, che in parte ha anche corretto la teologia paolina, sosteneva che il matrimonio fosse l'unica soluzione alla impurità e che quindi fosse qualcosa di deterministico peccare, ma non può essere così. Se fosse deterministico peccare, se fosse impossibile, come dato di fatto, non peccare, Dio non ci direbbe non peccato. Invece Lutero nella sua follia dice ai frati, i monaci e in generale a tutti i consacrati, basta con gli obblighi del glüpte, del voto, perché ci si interessa il glüpte, perché sono cose addirittura peccaminose, cioè fare un voto a Dio di castità sarebbe per lui qualcosa di peccaminoso. Quindi vedete come l'eretico stravolge la dottrina di fede, stravolge completamente la dottrina di fede. Ed ecco che dunque si giunge invece alla realtà, al fatto che l'uomo è libero, che certo è fragile in vertù del peccato originale, ma che è in grado, se vuole, di resistere appunto al male e alla tentazione. E arrivare addirittura la santità, quella santità che mirabili esempi nella storia della Chiesa ci mostrano è come possibile. Certamente non la perfezione divina, sarebbe bestemmia credere che un San Francesco d'Assisi possa essere arrivato a essere come Gesù Cristo, ma certamente ci è arrivato molto vicino. Un padre Pio, un San Giovanni Maria Viannè, curato d'Ars, chi volete voi. Come interviene allora la grazia di Dio sull'uomo? La grazia è come detto una forza sovrannaturale, ottenuta dal Cristo morendo sulla croce per noi. Essa, la grazia, sollecita l'uomo alla conversione, la vera conversione, non la finzione luterana del fatto che Dio ci mette sopra una coperta di indulto e fa finta che noi siamo convertiti, che siamo davvero giustificati. No, una vera giustificazione che diventa conversione. Lo conduce, questa grazia, e sostiene nella vita cristiana. Lo porta, infine, alla salvezza. Per questo sappiamo con certezza che non è l'uomo a salvarsi da solo, ma l'azione di Dio nella grazia, che l'uomo è libero di accettare o rifiutare. Rimane la libertà all'uomo come condizione imprescindibile, condicio sine qua non, diciamo, dell'esistenza umana, potremmo dire, per quello che riguarda Dio. Poi, che ripeto, Dio non crea marionette. L'amore è amore che lascia liberi, così come in un rapporto di coppia naturalmente si pretende tutto, perché Dio pretende tutto da noi. Dio non pretende solo qualcosina, come ci dicono i teologi. Dio pretende da noi la perfezione. Siate perfetti. Matteo 5, 5, 8, se non erro, 5, 7, 10, forse una volta me lo ricordavo a memoria. Siate perfetti come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. No, direi che fosse un solo verso, è comunque Matteo 5, 7. E quindi non credete a quei sacerdoti che dicono Dio non vuole da noi la perfezione, no, perché altrimenti le persone si sturdiscono, si sturbano, no. Dio vuole da noi la perfezione e sa benissimo che non la raggiungeremo mai, ma vuole il cammino, l'imitazio Cristi. Pensate al grande testo da imitazione Cristi, l'imitazione di Dio, di Tommaso De Campis. Quindi l'uomo certamente non si salva da solo, ma l'uomo può scegliere da che parte stare, fondamentalmente. O si sta con Dio o si sta contro di Dio. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. E quindi vediamo che la grazia interviene ed è certo che il merito, no, i luterani ci rispondono, ma allora voi siete pelagiani perché credete voi cattolici che l'uomo si salvi da solo. Niente affatto, no, non permettetevi, non permettetevi. È logico che l'uomo si salva in virtù della morte di croce di Cristo, altrimenti saremmo tutti all'inferno. E allora rispondono, ma se noi dobbiamo compiere le opere per meritare la salvezza, allora qual è il merito della morte di Cristo sulla croce? Qual è il merito? Il fatto che senza la morte di Cristo sulla croce noi non si andava davvero da nessuna parte, lui avrebbe avuto ragione Lutero. Saremmo nella condizione che sostiene, sosteneva, adesso non c'è più, allora Lutero. Sostengono i suoi seguaci attuali, cioè il fatto che l'uomo non si può mai salvare veramente, se non con... Però, attenzione, adesso l'uomo può salvarsi, adesso l'uomo in virtù della grazia offerta di Gesù Cristo può salvarsi, ma deve collaborare. Deve collaborare. La grazia è gratuita perché ci permette gratuitamente quella possibilità di una porta aperta, quella possibilità di una porta aperta. Quindi, prima della morte di Cristo non era possibile per nessuno accedere davvero alla beatitudine. Dopo la morte sulla croce di Cristo e i suoi immensi meriti ci è donata la grazia che è una porta aperta, dalla quale possiamo passare e quindi poi compiere quelle opere sulle quali siamo giudicati, perché bisogna essere giudicati sulle opere, Matteo 25, oppure nulla. La fede da sola non è giudizio, la fede è accompagnata dalle opere. La fede senza opere è cosa morta, ci dice la lettera di San Giacomo, che guarda caso, Lutero rifiuta. Ed ecco, veniamo per finire, perché sono tante le tematiche qui, ma non si può farlo in un video solo, a un'altra variazione dell'eresia luterana che è poi quella di Giovanni Calvino. Giovanni Calvino, il quale riprendendo e portando a termine le folie di Lutero, come sapete insomma i mali vengono sempre insieme, arriva addirittura a sostenere un'altra gigantesca eresia che l'eresia della doppia predestinazione. Attenzione, non bisogna dire l'eresia della predestinazione, ma l'eresia della doppia predestinazione, perché alla predestinazione crede anche la chiesa di Cristo. Cosa vuol dire predestinazione? Bisogna capire quando si parla di predestinazione, vuol dire che Dio sa già chi sarà salvato e chi sarà condannato, e allora la maggior parte della gente alza la mano e dice, oi boh, ma se Dio sa già chi sarà, allora vuol dire che lui ha già deciso, allora vuol dire che non c'è possibilità, non c'è possibilità, no, Dio conosce le nostre scelte libere che ci porteranno ad essere per azione libera nostra salvati o condannati. Dunque la prescienza divina, che facciamo uguale predestinazione, è un destino, è il predestinare chi già Dio conosce alla salvezza, non c'è dunque un necessitarismo, non c'è un determinismo da parte di Dio. Calvino invece, non si sa in base a quale follia, sostiene, sosteneva nella sua famosa doppia predestinazione appunto che vi fosse una destinazione doppia appunto. Dio predestinava sia i beati che andavano in paradiso, che coloro che invece andavano all'inferno. Quindi in un Dio che veramente è un Dio malvagio, se fosse vero, ma per fortuna non è così, Dio predestina sia i beati, che vede già in paradiso perché lui è onnisciente, che coloro i quali invece sono condannati. Questa è l'assurdità della eresia calvinista. Andiamo a confutarle, diciamo no, Dio conosce da sempre, in quanto onnisciente, il destino della nostra anima, dopo la nostra morte. Dio conosce il numero dei salvati, questo dice la Bibbia, questo dicono le lettere paoline, questo dice anche l'Apocalisse, il numero dei salvati, è conosciuto da Dio, è scritto sui famosi libri dell'Apocalisse, ma questo non vuol dire che quella scrittura è stata decisa contro non giudicando le nostre azioni, è stata decisa dall'oniscenza divina che già conosce dove noi andremo a finire. Tuttavia il giudizio particolare dopo la morte, quando la nostra anima sarà giudicata da Dio, sarà il frutto delle nostre scelte libere, libere di accoglienza o non accoglienza della parola del Cristo e dunque delle opere che in maniera conseguenziale, pur con tutte le nostre fragilità, andremo a compiere per eseguire la volontà divina. Dio conosce dunque il corso libero delle nostre scelte future, Dio essendo onnisciente vede già quell'immensa strada, più o meno lunga, a seconda della nostra vita, che ci ha portato attraverso però scelte libere a compiere quelle azioni che ci porteranno ad accogliere la grazia e quindi essere salvati oppure ad essere condannati all'inferno. Allora come interviene Dio? Ci si può chiedere cercando di analizzare la provocazione eretica calvinista. Dio interviene, non interviene se non aiutando. L'unico intervento magistrale che fa Dio è dandoci delle opportunità, bisogna poi saperle riconoscere nella nostra vita per accogliere la grazia che ci viene in primis dai sacramenti, ma in secundis in genere da tutta la nostra vita, perché come sappiamo Dio non si limita ai sacramenti certamente, per poter compiere quelle opere che ci portano in paradiso o al più magari attraverso la purificazione del purgatorio. Dunque l'intervento di Dio non è un intervento volto al male, è questo che Lutero non aveva capito. Quando parte la diatriba con Erasmo e lui gli porta la citazione di Eso dove si dice che Dio indurì il cuore del faraone, allora quello stupidone di Lutero va a dire allora vedi che Dio ha influenzato negativamente, ha costretto il faraone a peccare. Cosa vuol dire indurì il cuore del faraone? Vuol dire semplicemente che siccome il faraone era già un impenitente e quindi Dio sapeva che non si sarebbe mai e poi mai convertito alla vera fede, quindi non avrebbe mai dato il permesso al popolo ebraico di andare nella terra promessa, allora non dà quei doni di grazia, non conferisce più quei doni di grazia, limita i doni di grazia che permetterebbero al faraone nella dura cervice di fare cosa? Di convertirsi. Allora in quel senso Dio indurisce il cuore del faraone, riduce sicuramente il suo aiuto, così si può intendere, indurisce il cuore del faraone perché sa già che appunto come poi il popolo ebraico nel deserto è qualcuno che non vuole convertirsi, però questo non vuol dire che Dio muove i fili del faraone e che quindi lui non è giudicabile, no, lui è giudicabile proprio perché non merita, non merita la grazia. E allora ma la grazia è gratuita, sì la grazia è gratuita, ma visto proprio che è gratuita Dio sceglierà bene a chi poterla dare di più, a chi forse se la merita di più e chi se la merita di meno. E allora? E allora possiamo dire quindi che la stessa citazione famosa che tante volte ci fa saltare sulla sedia in chiesa, no, dove dice a chi ha sarà dato e a chi tolto sarà, a chi non ha sarà tolto anche ciò che ha, che cosa vuol dire? Che tanti dicono ma come, ma Dio non è colui che dà tutto ai poveri, non capiscono una mazza di questa citazione, si parla della grazia. È questo che dice Cristo quando dice a chi ha sarà dato. Chi ha già la grazia perché l'ha accolta ne darò ancora di più se naturalmente rimarrà in grazia. Quindi se per esempio farà una vita in grazia di Dio rifuggendo dal peccato mortale, allora io attraverso i sacramenti gli conferirò ancora più grazia, ancora più potenza per sconfiggere il nemico, che sappiamo chi è. Chi invece ne ha già poca, oppure non ne ha per nulla, perché è in peccato mortale, io non gliela do. E così fa con il faraone, perché non se la merita. E qui dice ma la grazia è un dono, non viene dal nostro... Sì è vero, di base è un dono perché tutti siamo peccatori, perché tutti siamo vittime al peccato originale. Però Dio poi sceglie come e in che modo favorire e non favorire. E certo favorisce comunque di base tutti, perché ci sono le grandi conversioni, anche di chi non meritava certamente una conversione, ma tuttavia agisce secondo la sua volontà, sulla quale non dobbiamo giudicare, ma che comunque ha una sua razionalità ovviamente. E quindi sul faraone interviene indurendo il cuore del faraone, il che non vuol dire che il faraone non è giudicabile, ma giudicabile proprio perché è questa la sua colpa. Quindi egli garantisce sempre la nostra libertà. Concludiamo, discorso se la Chiesa conosca con certezza chi è condannato, chi è in purgatorio, chi è in paradiso. La solita cosa di chi comincia a dire Lutero all'inferno, Mussolini all'inferno, le tante sentenze che purtroppo ci scappano di bocca tante volte, no? Sono scappate di bocca anche a Dante Alighieri quando ha scritto la linea commedia, d'accordo che è un'opera letteraria, ma che manda Bonifacio VIII all'inferno, ma che ne sai tu, a parte che forse Bonifacio VIII era ancora vivo quando Dante scriveva, quindi insomma era chiaramente un attacco, ma al di là di Dante Alighieri, grandissimo cristiano, peraltro ai cristiani scappa a volte questa cosa. che non deve scappare, no? Dici, ma perché non bisogna giudicare? Certo, sicuramente per quello, ma anche perché la Chiesa non conosce il destino delle anime, con certezza, di nessuno. In realtà non è vero, perché la Chiesa conosce con certezza solo il destino delle anime dei santi che ha lei stessa canonizzato, perché la Chiesa quando canonizza, ricordo anche i super tradizionalisti, quando canonizza un santo, quindi il processo canonico è sostenuto dallo Spirito Santo. Quindi non si può dire quel santo non ci piace, no? Come fanno alcuni tradizionalisti, non facciamo nome e cognomi, super tradizionalisti, perché lo ha fatto Giovanni Paolo II, allora siccome a noi non piace Giovanni Paolo II, perché è della Chiesa postconciliare, quindi è sicuramente un non cristiano, secondo gli ultratradizionalisti sede vacantisti, chi più ne ha più ne metta, allora no, non è un santo, no? Perché la Chiesa è ispirata dallo Spirito Santo. Quindi noi sappiamo con certezza che in Paradiso sono sicuramente tutti i santi, eh? E i beati, ovviamente, canonizzati, ok? Possiamo credere che sicuramente anche i servi di Dio venerabili, insomma che sono al di sotto della beatitudine, perché comunque la Chiesa gli ha già riconosciuto delle doti notevoli, ma con certezza dei beati e dei santi del Paradiso, eh? Anche se magari ci risultano persone che ma in fin dei conti non hanno fatto così tanto, perché tutto bisogna vedere, fallo tu quello che hanno fatto loro, eh? Però adesso va di moda dire che i santi più recenti in fin dei conti hanno fatto cose ma mica solo perché non hanno fatto 15 giorni di digiuno, come facevano i grandi santi, va bene. Però cominciate voi a fare, alla loro età magari, no? Piccoli bambini o ragazzi, quello che hanno fatto loro, ma poi ne riparliamo. Vediamo voi, eh? Alla vostra età, coloro che giudicano i santi contemporanei della porta accanto, se voi avreste fatto la stessa cosa. Vabbè, comunque la Chiesa conosce con certezza solo il destino delle anime dei santi canonizzati. Dopo un attento processo canonico, la Chiesa riconosce infallibilmente, assistita infatti dallo Spirito Santo, la santità di una persona defunta. Di essi, quindi siamo certi che siano in Paradiso chi? I santi canonizzati, i bambini battezzati, battezzati ovviamente, perché è il battesimo che permette di accedere al Regno di Dio, e morti prima dell'età della ragione, che la Chiesa ha sempre definito in maniera infallibile a sette anni. La Chiesa dice, fino a sette anni non si può peccare consapevolmente, non vi è, diciamo, una capacità di riconoscere il bene dal male. Quindi, se un bambino Dio non voglia, muore, purtroppo tanti lo fanno, non cominciamo a fare polemiche a qualunque religione esso appartenga, anche se fosse di famiglia non credente, comunque non è colpa sua. E attenzione, però, perché lì c'è poi il discorso del battesimo, eh? Chi non è battezzato, la Chiesa, anche se in maniera non dogmatica, ha sempre detto accede per intanto al limbo. Però vi invito a guardare il video che ho appunto girato anche sul limbo, che ho registrato sul limbo. Quindi, parliamo di bambini battezzati, sicuramente vanno in Paradiso, se muoiono prima dei sette anni di vita. Di chi conosciamo ancora anche la sicurezza, con sicurezza che sono in Paradiso? I martiri per la fede, no? Potrebbe darsi che alcuni di loro non fossero al tempo ancora neanche cristiani. Ovviamente adesso è più difficile, no, negli ultimi anni, però dobbiamo immaginare che c'erano alcuni martiri che ancora non erano stati battezzati per varie ragioni, perché nei primi anni della storia della Chiesa spesso si tendeva a fare il battesimo più tardi, ma che attraverso un battesimo di desiderio già avevano un desiderio di farsi battezzare e poi, naturalmente, fanno la stessa morte di Cristo sulla croce. O non volete che non vada in Paradiso uno che segue in maniera pedissequa e fa la stessa cosa di Cristo, cioè si fa uccidere per la fede, per Dio, sulla croce, e quindi che si fa martirizzare. Dunque, dei martiri siamo certi che vanno in Paradiso, anche se paradossalmente, ma sicuramente i nostri martiri non l'hanno fatto, avessero compiuto un solo peccato mortale, lungi da noi credere che i martiri l'abbiano fatto nella loro vita, magari prima di convertirsi, comunque, morendo, ovviamente in odium fidei, cioè se devono morire però per la fede, non è che muoiono perché sono stati derubati, ma morire perché qualcuno gli dice tu devi essere musulmano, per fare un esempio, tu devi giurare all'imperatore, devi sacrificare all'imperatore, loro rispondono no, allora in quel caso sicuramente il martire va in Paradiso, ma perché? Insomma, ha fatto quello che fa Cristo, e non può essere che è unito in maniera perfetta a Cristo, ovviamente attraverso il suo martirio lava con il suo sangue, che si unisce a quello di Cristo, tutti i propri peccati eventualmente sterminati, compiuti fino a quel momento nella sua vita. dunque siamo certi, abbiamo detto, del Paradiso, dei Santi canonizzati, dei bambini battezzati fino al settimo anno di età, e certamente anche dei martiri per la fede. Sulle altre anime è giusto non azzardare alcun tipo di giudizio? Non dobbiamo perché non dobbiamo giudicare, ma soprattutto perché noi non sappiamo se anche il più grande peccatore, il più grande delinquente di questo mondo, poniamo un Benito Mussolini, un Adolf Hitler, un Josef Stalin, o come cavolo si chiamava, si fosse pentito, si sia pentito all'ultimo momento. Noi non dobbiamo giudicarlo. Uno, secondo luogo, non dobbiamo per alcun motivo sapere, non sappiamo appunto se si sia convertito. E dunque potrebbe essere in purgatorio, magari fino al giudizio universale, potrebbe anche invece aver fatto altri atti che lo hanno portato anche a ridurre la sua pena del purgatorio. E sta solo a Dio e non sta a noi poter e voler giudicare quello che queste persone hanno fatto. Noi però, e qui c'è l'obiezione, noi dobbiamo e siamo tenuti a giudicare però la dottrina. Quindi dobbiamo dire quello che sta dicendo il signor Lutero è falso, è pericoloso, è eresia. Siamo tenuti a dirlo. Attenzione, questo non è un giudizio sulla persona, anche se naturalmente le idee stanno attaccate alle persone. Quindi uno potrebbe dire tu stai d'accordo. La Chiesa lo ha potuto fare, lo ha potuto condannare, ha potuto e dovuto condannare le sue idee, noi non siamo tenuti a farlo. Noi come cristiani dobbiamo sapere e dire questo è vero, questo è falso, per il bene di tutti, per la salvezza delle ali. E con questo concludiamo. Dunque il giudizio spetta al nostro Signore Gesù Cristo. Quindi anche circa appunto il pontefice attualmente regnante sul quale si sentono tanti e grandi insulti, attenzione perché noi dobbiamo dire ciò che è vero, ciò che è falso, ma noi non possiamo appunto permetterci di dire la tal persona quando morirà, pagherà, tutto quello. No, queste sono cose che si possono ritorcere soltanto contro di noi. Assolutamente, assolutamente vietato. Vietato semplicemente perché appunto non sta a noi decidere, se non di ciò che la Chiesa ha stabilito.